Hola pepeños, che tal? Come si saluta e ci si presenta in spagnolo? Beh, oggi lo scopriamo con due miei carissimi amici molto particolari che diciamo cercano di occultare la loro identità. Beh, sta a voi scoprire chi sono con questo breve video nel quale scopriamo chi sono e quindi impariamo a salutare e a presentarci. Hola! Hola, che tal? Bien, tu? Bien, gracias. Como te llamas? Lo leggo lentamente. Hola! Hola, che tal? Bien, e tu? Bien, grazie. Como te llamas? Io mi chiamo Sanjarnà, io sei arame, e tu? Io sono Juana e sono spagnolo. Encantato! Io mi chiamo il vostro nome e sono in la vostra nazionalità. E tu? Io sono Juana e sono spagnolo. Encantato! Nos vemos, hasta luego! Hasta luego! Nos vemos, hasta luego! Hasta luego! Che lo utilizziamo anche per dire a presto. Grazie, miei cari, siete simpaticissimi. E non avete ancora capito chi sono, eh? Ma se dovessimo incontrare questi due loschi figuri di mattina, cosa dobbiamo dire? Buenos dias! Il buongiorno lo usiamo dalla mattina appena ci alziamo fino al mezzogiorno. E se invece dovessimo incontrarli, non so, di pomeriggio? Buenas tardes! Il buon pomeriggio lo usiamo dal mezzogiorno fino alle 6-7 di sera più o meno. E se dovessimo incontrarli invece di sera, tardi? Buenas noches! Esatto, buonanotte barra buonasera. Infatti lo utilizziamo, diciamo, dopo le 6-7 fino a che non andiamo a dormire. Ragazzi, questo video giunge al termine. Spero che vi sia stato utile, soprattutto che vi abbia strappato un sorriso. E che vi siano anche simpatici i miei due nuovi compagni di viaggio. Sao qua 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 e qua nita. E qua no? Se volete scoprire qualcosa di più su di me, sui miei prossimi video e anche su di loro, perché no? Iscriviti volo al canale, metti un bel mi piace, oppure seguici anche su Facebook. Vi metto il link nella box di informazioni qui sotto. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego! Grazie a tutti!